E ora, abbiamo quasi finito, sì. Infatti anche noi siamo accorti solo adesso e c'è come finta a finire l'Ando Canzon, questa birra. E ha tanta fiducia a noi sicuramente, quindi via, via, no? Noi vi ringraziamo tantissimo veramente, perché ci vogliamo col giardino così tutto in acustico e anche è una prova per voi, per voi ascoltare, sopportare, per noi farlo senza eccedere negli eccessi, no? E questo pezzo, penso che è quello che vi accomuna un po' a tutti, perché è stato il mezzo tramite il quale avete potuto conoscerci e è il mezzo che useremo ora per roccheggiare i vostri calzini.